Mamma mia che sveglia odiosa! Stoppati! Ma se si potesse avere una sveglia, tipo partire con la propria radio preferita! Ma si può fare! Andiamo a vedere come! Ok, per poter impostare una sveglia un po' più movimentata, diciamo, un po' diversa dal solito, entriamo subito nell'app Alexa, clicchiamo sui tre trattini in alto a sinistra, clicchiamo su Routine, tasto in alto a destra più per raggiungere la nostra routine, gli diamo un nome, la chiameremo Svegliamoci e poi Avanti in alto a destra. A questo punto vi dobbiamo dire quando questo accade, quindi che cosa quando ci sarà la sveglia. Clicchiamo sul tasto Avanti in alto a destra, aggiungi un'azione, tasto più. Che cosa deve fare? Deve andare a prendere la nostra skill, quindi clicchiamo su skill, le tue skill e io inserirò Radio DJ. Naturalmente voi potrete inserire tutte le skill che volete. Premessa, attenzione! Naturalmente dovete scaricare prima la skill che vi interessa per poterla abilitare. Quindi clicchiamo su Radio DJ, tasto Avanti in alto a destra e qui gli diciamo che dispositivo. Selezionate il vostro dispositivo e poi andiamo dove c'è la scritta in qualsiasi momento, facciamo Modifica. Allora, qui sono attivi tutti i giorni della settimana. La settimana che viene riportata in questo calendario è in inglese, quindi parte dalla domenica. Io voglio la sveglia dal lunedì al venerdì, quindi eliminerò la S di Sunday, quindi domenica, e l'ultima di Saturday, quindi sabato. E mi viene fuori che i giorni di attività sono i giorni feriali. Una volta selezionati i giorni della settimana, dovete dirgli però l'attività tra che orario e che orario volete. Io ad esempio la imposterò tra le 7 e le 7 e 5. Fatto questo, clicchiamo sul tasto in alto a destra Avanti. La sveglia è stata impostata con successo, salva. Eccola, ve la trovate qui tra le routine che avete creato. Dopo questa dimostrazione, torniamo in diretta. Abbiamo visto come poter attivare una sveglia un po' più, diciamo, congeniale per potersi svegliare, così perlomeno vi svegliate con un qualcosa che vi piace a voi. Pi piacevole. Non i soliti pipipipopopopapapa, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella, in modo da essere avvertiti ogni qualvolta noi ne pubblicheremo un video. Lasciate un bel mi piace, mi raccomando. E rispettate i protocolli di sicurezza, importantissimo. Vedete? Distanza, anche se siamo congiunti, credo. Sì, non siamo congiunti. Quindi... Mi raccomando, ragazzi, date l'occhiata appunto qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi!